Invece non c'è fatto. Uide, ho trovato. F***er! Ho facciato così. La prima strofa. Io faccio una... La prima strofa. Facciamo piano, normale. Ma no, ma è normale che non si è sempre trappettito in rosso, ma poi siamo su se. Di quanto? Va bene. Quindi qui nella seconda io faccio qui. Qui in cinque sette. Va bene, ma tanto Danilo, devi ancora mettere in modo un picciolo che dobbiamo portare. Mille balle per un attivo. Vieni qua, vieni qua. Non siamo in attivo di rust. Piano. Qua faccio l'intermezzo. Così. Quest'anno siamo quasi sempre stati soli. E allora dobbiamo fare qualcosa di ottobesemente. Inizio. E poi qua, nell'intermezzo, devi togliarti il caffè, non mettersi gli occhioni giù e farà REC. Sì, però su, su, su. Voi tutti in silenzio. Voi tutti in silenzio. Sì, sì, sì. Silenzio, silenzio, silenzio. Aspetta, aspettate. Aspetta che se non è andata. Aspetta, aspettate, aspettate. Fare il sei, a lì, qua, su parte. Va bene, ho capito. Però devi farmi vedere. Ditemi quando state per... Ma sì, registra, ma. Iniziamo. Vai. Frate leone, agnello del signore, per quanto possa un frate, sull'acqua camminare, Sennare gli ammalati, o vincere ogni male, o far vedere i ciechi, e i morti camminare. Frate leone, pecorella del signore, per quanto possa un santo frate, parlare pesci di animali. Frate leone, e ammanzire i cani, tu, schifiche. Questa non è, non è. Perfetta Letizia, tu, Letizia. Perfetta Letizia, perfetta Letizia. Frate leone, agnello del signore, per quanto possa un frate, parlare tanto bene, da far capire i soldi, e convertire i lati, per quanto anche l'inferno, lui possa far cristiano. Perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia. Frate leone, a una uova. Ora fammi Questa è... Venta Letizia! Yeah! Uoah! Giacomo, cosa hai fatto ai capelli? L'unico è potente avere... Anche lui, proprio! Tranquillo! Un uomo sbagliato nel momento! Un video che era una cosa... In collaborazione... Un commento? No comment! Aspeniamoci! Yeah!